Il problema del mezzogiorno non può essere affrontato con il reddito di cittadinanza. L'onorevole Gerardo Bianco rilancia la questione meridionale e critica la strategia del governo gialloverde. Secondo l'ex ministro, che ha concluso confronto organizzato dalla soprintendenza all'ex carcere borbonico, coordinato dal direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo, con Maria Cristina Lenzi, Norberto Vitale e Tony Germano, la situazione politica nel paese è grave. E non è solo preoccupante l'annunciata riforma delle autonomie, che accentuerebbe la divisione tra nord e sud, ma c'è da essere allarmati quando un sindaco leghista blocca l'apertura di una sede della normale di Pisa-Napoli. Dunque, per Bianco, bisogna ripartire dalla cultura e soprattutto dai giovani per un nuovo meridionalismo. La questione meridionale non è una questione specifica, particolare, anche se è stata definita così, perché c'è stata una letteratura e soprattutto una teoria politica che ha concentrato l'attenzione al Mezzogiorno. Però il problema del Mezzogiorno è un problema dell'Italia e oggi quello che manca è proprio una visione dell'Italia, di come l'Italia deve giocare un ruolo a livello non solo nazionale per risolvere i propri problemi, ma a livello europeo. Se le autonomie locali diventano degli staterelli, l'Italia praticamente si sfascerà e diventerà non più una nazione unica che gioca il suo ruolo nel mondo e in Europa, ma diventerà una sorta di confederazione di staterelli. Torniamo a una fase pre-risorgimentale.